Sarà una fiera dell'Epifania domani, la 74esima, con un dispositivo importante di sicurezza. Oltre al meccanismo interno di FIVA Confcommercio, che ha previsto anche dei propri steward, ci sarà personale del Comune e della Municipale a far sì di concerto con le forze dell'Ordine che tutto vada per il verso giusto e si riesca a gestire una mole di visitatori notevoli. Si parla di almeno 25.000 presenze attese, di vieti nelle aree interessate, strade chiuse, manavetta gratis e vigili urbani disposti con 45 unità. Sì, sicuramente sarà una fiera sicura. Anche quest'anno ci saranno 45 uomini della Municipale divisi nelle varie turnazioni che partiranno a lavoro già da questa sera, dalle 20, per poter consentire a tutti quanti gli ambulanti che arriveranno di stazionare sulle loro postazioni. Nei turni successivi, come ho già detto, verranno quindi fatti questi controlli anche per cercare di limitare i commercianti abusivi che vorranno stazionare all'interno dell'area della fiera. Ci saranno nei vari varchi sia le forze di polizia e dei carabinieri, sia i uomini della Municipale che appunto vigileranno sul corretto utilizzo di questi varchi. Ricordo in particolare la difficoltà che potrà esserci principalmente su Portaleoni, che sarà utilizzata a doppio senso di marcia sia in ingresso che in uscita proprio per consentire ai residenti di accedere all'area di Santa Maria di Farfa. Quindi spero davvero che ci saranno i residenti che saranno molto attenti a questi movieri che saranno lì. In una riunione in Prefettura si è fatto proprio il punto della situazione sul piano sicurezza. Il piano di vigilanza sarà imponente per controllare i borseggiatori, che sono sempre in azione in queste occasioni, ma anche per contrastare l'abusivismo e i venditori di merce contraffatta. Anche il termine a Lorenzo Natale avrà una vigilanza fissa perché si potrà parcheggiare gratis. E sono tante le iniziative collaterali per l'Epifania, come la Befana Tricolore di oggi, organizzata da Luca Rocci, Laura Coccetti e Lorenzo Isidori, per raccogliere giocattoli per bimbi in difficoltà. Ci sarà il 6 gennaio anche la Befana del Vigile ai Quattro Cantoni, a supporto di famiglie in difficoltà con la raccolta di generi alimentari, che torna dopo quattro anni di stop. E non più in piazza, ma alla Villa Comunale il 6 gennaio, tutti con il naso all'insù, per la Befana che scende dall'alto, grazie ai Vigili del Fuoco.